Buongiorno ragazzi, oggi parleremo della seconda grande figura del rinascimento, ovvero Donatello. In realtà il nome vero di Donatello è Donato di Niccolò di Betto e ebbe una lunga vita, infatti nasce nel 1386 e muore nel 1466 e la sua carriera fu quasi esclusivamente, anzi potremmo dire esclusivamente quella di scultore. Uno scultore che però si approcciò alle diverse tecniche scultore e ai diversi materiali, infatti di lui ci sono rimaste opere in bronzo, in terracotta, in legno, in cartapesta ma possiamo comunque dire che qualunque fosse il materiale che lui ha usato nel corso della sua carriera quello che l'ha sempre contraddistinto è stata l'ansia di una ricerca che però ha sempre portato a un enorme fascino e anche a una grande importanza data proprio alla materia ma anche al risultato stesso. Diciamo che è anche complicato poter scegliere quali opere dover affrontare di Donatello semplicemente sulla base cronologica anche perché sono state numerose e tutte quante sono state comunque contraddistinte da due fondamentali aspetti. Il primo è stato il cosiddetto naturalismo, ovvero quella riscoperta della realtà naturale che ha portato a una grande attenzione anche al mondo che ci circonda mentre l'altro importante aspetto è l'attenzione alle forme antiche tant'è che dobbiamo ricordare che Donatello andò insieme a Brunelleschi a Roma a fare questo famoso viaggio in cui entrambi tornarono proprio formati con una nuova consapevolezza di quello che fosse il passato. E' proprio per questo motivo che all'interno della sua carriera numerosissime sono state le svolte artistiche e anche per questo è considerato probabilmente il più grande scultore del primo Quattrocento formando insieme a Masaccio per la pittura e a Brunelleschi per l'architettura una triade il cui aspetto, il cui esempio è senza ombra di dubbio imprescindibile per quello che sarà la formazione dei nuovi artisti. La prima opera che andiamo ad analizzare è il San Giovanni Evangelista che venne realizzato tra il 1408 e il 1415 per una delle nicchie della cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Che cosa possiamo notare subito in quest'opera? Innanzitutto come ancora la presenza dello stile gotico ci sia e sia anche insomma forte come per esempio possiamo vederlo nelle spalle che sono a malapena coperte e anche il busso che è coperto per l'appunto da questi panneggi appena morbidi ma che comunque sia danno un aspetto di enorme eleganza che ricorda la scultura tardogotica. però abbiamo anche dei grandissimi momenti di innovazione soprattutto sulle ginocchia e in particolar modo le stoffe che ricoprono per l'appunto le gambe che hanno un andamento molto più fluido, molto più naturale e fanno anche vedere e danno importanza naturalmente alle forme degli arti per l'appunto sottostanti. Ma anche la posizione del corpo che è leggermente ruotata all'interno di questa nicchia perché appunto dobbiamo ricordare che il San Giovanni Evangelista era destinato ad una nicchia ci invita anche a vedere il santo come un individuo nuovo, un individuo vero tanto vero da creare anche una sorta di chiaroscuro soprattutto intorno ai capelli o anche nei bulbi oculari o anche nei baffi stessi creando per l'appunto queste zone di luce e di ombra che ritroveremo con questa appunto espressione molto intensa che ritroveremo semplicemente nel Mosè di Michelangelo. Subito dopo aver concluso il San Giovanni Evangelista a Donatello viene chiesto di realizzare un'altra importante scultura ovvero il San Giorgio ma da chi gli fu commissionata? Gli fu commissionata dall'arte dei corazzieri e degli spadai un'arte molto importante all'interno delle arti di Firenze per cui vale un discorso a parte dobbiamo infatti ricordare che nella chiesa di Orsan Michele o meglio per la chiesa di Orsan Michele tutte le arti maggiori di Firenze dovevano realizzare una decorazione scultoria con il proprio santo protettore da mettere all'interno della nicchia appunto a decorazione della facciata e Donatello realizzerà due opere diverse di cui una per l'appunto è il San Giorgio ma com'è questo San Giorgio? San Giorgio è apparentemente una figura che ha una posa statica che è ben salda sulle sue gambe aperte e ha anche il busto che potremmo dire così è leggermente ruotato rispetto a quell'asse immaginario che è costituito dallo scudo e che sale su fino al capo per l'appunto di San Giorgio purtroppo ad oggi è andata perduta la spada in bronzo che teneva nella mano destra ma è interessante vedere come sempre verso destra sia voltata la sua testa una testa che è caratterizzata da quello stesso chiaroscuro che trovavamo nel San Giovanni Evangelista e proprio nella zona del volto tra le sopracciglia per l'appunto che sembrano aggrottate ma anche i tendini del collo che continuano comunque all'interno di un busto caratterizzato da quella torsione che però rende la figura estremamente viva dando così anche un senso di maggiore profondità alla nicchia stessa che in realtà di spazio ne ha veramente poco questo naturalmente permette anche di accordare tra la statua e lo spazio una realtà che per l'appunto infonde vita al San Giorgio di Donatello è interessante vedere anche quello che dice Vasari a proposito del San Giorgio perché lo definisce con queste parole fece, sottinteso Donatello una figura di San Giorgio armato vivissima e fierissima nella testa della quale si conosce la bellezza della gioventù l'animo e il valore nelle armi una vivacità fieramente terribile ed un meraviglioso gesto di muoversi entro a quel sasso abbiamo detto che il San Giorgio era destinato a una nicchia a un tabernacolo, diciamo così per la chiesa di Orsan Michele di Firenze ma alla base di questo tabernacolo subito dopo la realizzazione del San Giorgio Donatello realizza una base decorata il cui tema è San Giorgio che libera la principessa potremmo definirlo come un esempio antico ma anche un esempio di fortissima innovazione moderna peculiarità queste due che sono finalizzate all'efficacia della narrazione stessa il cavallo viene rappresentato come impennato e San Giorgio sta che è per l'appunto il cavaliere sta uccidendo con una lancia il drago e a tutta questa scena sta assistendo per l'appunto la principessa scena questa in generale che comunque sia può essere tranquillamente ripresa da sarcofagi antichi ma qui subentra un'altra peculiarità importante di Donatello che è quella dello stiacciato ovvero con questo rilievo il cui spessore è veramente minimo che attraverso per l'appunto variazioni di pochi millimetri tra un piano e l'altro restituisce la dilatazione spaziale con un mezzo che potremmo definirlo quasi pittorico attraverso un uso di luce e ombre che permette per l'appunto la costruzione di una prospettiva con un unico punto di fuga esattamente quella prospettiva teorizzata da Brunelleschi e poi messa per iscritto da Leon Battista Alberti qualche tempo dopo è interessante vedere come queste regole prospettiche in questo caso non siano tanto a definire una sapienza reale nel fare scultura ma anzi siano lì per sottolineare il drammatico svolgersi dell'azione che è rappresentato per l'appunto dall'uccisione del drago e dalla protezione della principessa stessa